Lunedì 23 gennaio al santuario di San Giuseppe di Spicello si è tenuta la solenne celebrazione eucaristica in occasione della festa dello sposalizio delle Vergine Maria e San Giuseppe, presieduta dal vescomo signor Andrea Andreozzi e alla presenza di numerosi sacerdoti e diaconi. Durante la celebrazione gli sposi presenti hanno anche rinnovato le promesse matrimoniali pregando insieme e offrendo le proprie famiglie al Buon Padre Dio. San Giuseppe rappresenta il futuro, l'abbondanza, in lui possiamo sperare che il mondo tenga pace. Lui è l'uomo giusto, capace di custodire la vita, dono e promessa di Dio. San Giuseppe ha promesso a Dio di portare avanti il suo sogno d'amore e oggi, ha detto Monsignor Andreozzi, rivolgendosi agli sposi, noi siamo qui in questo luogo come nei pressi di una sorgente facendo memoria del passato per gustare la fecondità del futuro, di ciò che sarà. Maria e Giuseppe, con il loro sì a Dio, ci hanno donato il Salvatore. Al termine della solenne celebrazione e la presenza del delegato dell'Istituto Santa Famiglia, don Roberto Roveran, il vescovo ha ufficialmente consegnato le chiavi del santuario al nuovo rettore, don Mirco Ambrosini, già parroco di Orciano, Barchi, Vergineto e direttore dell'ufficio diocesano di Pastorale della Salute, auspicando un'ampia collaborazione che parte dai sacerdoti dell'Istituto Paolino allargandosi a tutta la diocesi, facendo diventare spicello un luogo di spiritualità che ha nella famiglia Paolino un riferimento principale, un primo polmone e nella diocesi un secondo polmone, certi che con due polmoni si possa respirare meglio e iniziare insieme questa avventura. Don Mirco, nel ringraziare tutti i presenti per la vicinanza e l'accompagnamento, ha voluto ricordare come San Giuseppe è vicino a tutti coloro che dicono il loro sia a Dio. Mi piacerebbe, ha concluso Don Mirco, che questo luogo sia un luogo di preghiera che possa darci forza e luce, un luogo che risponda all'urgenza di oggi, l'urgenza dell'amore.